Sicuramente è un onore giocare contro una squadra del genere, che sono sicuramente tra le prime al mondo e si esprimono come poche altre squadre. Sta a noi preparare bene questa partita e cercare di chiudere bene il girone. Sicuramente scendere sabato in campo sarebbe una grande soddisfazione, perché sono squadre che non capita tutti i giorni di giocarci contro. Quindi sarei molto felice, sarebbe un obiettivo raggiunto, poi anche vedere l'ACA dal vivo è una cosa che non ho mai vissuto.